Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro a quel video. Betty Lou Beats nasce il 12 marzo 1937 a Roxborough, nella Carolina del Nord. È la secondogenita di Louise e James Dunvant. Suo padre è un mezzadro in un podere dove si coltiva tabacco ed entrambi i suoi genitori sono alcolizzati. Vivono in una baracca priva di vetri alle finestre senza poter disporre di elettricità o acqua corrente. Un attacco di morbillo di cui è affetta quando ha tre anni lascia Betty con un danno uditivo permanente. In seguito avrebbe affermato di essere stata costretta a imparare a leggere il labiale da sola. La famiglia si trasferisce a Dunville in Virginia nel 1942 quando Betty ha cinque anni. Facendo riferimento allo stesso anno, Betty ritiene di essere stata vittima di violenza intima esercitata da suo padre e da molti altri uomini. Nel 1949 la madre di Betty viene internata in un ospedale psichiatrico. Betty ha 12 anni all'epoca ed è costretta ad abbandonare la scuola per prendersi cura dei suoi due fratelli più piccoli. Sua madre alla fine si riprende abbastanza da tornare a casa ma subisce un altro crollo psicotico l'anno successivo. Betty è estremamente infelice e vede il matrimonio come la migliore opzione per allontanarsi da casa e farsi una vita tutta sua, sicuramente migliore di quella che sta vivendo attualmente. Così il 18 luglio del 1952 si sposa con Robert Franklin Branson all'età di soli 15 anni. L'anno successivo Betty dà la luce alla sua prima bimba che chiama Faye. La vita di Betty però crolla nuovamente a pezzi poco dopo la nascita di Faye. Lei e suo marito infatti si separano e non molto tempo dopo la sedicenne Betty viene ricoverata in ospedale a seguito di un tentativo di suicidio. La separazione però dura circa sei mesi soltanto, poi Betty e Robert decidono di riprovarci. Betty rimane nuovamente incinta subito dopo la loro riconciliazione e dalla luce una seconda figlia, Connie, nel 1954. Nello stesso anno la famiglia si trasferisce a Miss Kitt in Texas. Mentre vive in Texas, Betty dà la luce altri quattro figli. Shirley nel 1959, Phyllis nel 1962, Richard nel 1964 e Bobby nel 1966. All'età di 29 anni, Betty è madre di sei figli e si sente estremamente irrequieta. Poiché si era sposata in così giovane età, sente di non avere mai avuto la possibilità di uscire a divertirsi e dunque decide di recuperare il tempo perduto. Inizia a frequentare i bar, flirta con diversi uomini e si comporta come un adolescente. Comincia anche a sperimentare l'alcol per la prima volta. Suo marito è comprensibilmente turbato e la coppia divorzia nel 1969 dopo 18 anni di matrimonio. Betty dirà ai giornalisti che era profondamente innamorata di Robert ed era devastata quando lui l'aveva lasciata. Questa probabilmente è la verità e vi anticipo perché Robert è l'unico dei suoi cinque mariti che Betty non ha mai cercato di uccidere. Ammette di aver iniziato a bere molto una volta che lui se n'era andato, ma attribuisce la colpa allo stress di essere improvvisamente diventata una madre single all'età di 31 anni. Con poca istruzione e nessuna abilità, Betty crede di aver bisogno di un uomo nella sua vita che si prenda cura di lei. È determinata a non rimanere singola a lungo. Betty Lou è sicuramente una donna attraente, ha una vita sottile e un seno prosperoso, attira l'attenzione di molti uomini e non le ci vuole molto per concentrarsi su qualcuno che avrebbe potuto acudirla. Sposa Billy York Lane il 28 luglio 1970, ma richiede e riesce a ottenere un ordine restrittivo contro di lui soltanto quattro mesi dopo. A novembre ottiene anche il divorzio, a quanto pare Billy è un uomo violento. Tuttavia, nonostante il divorzio, i due sembrano incapaci di stare lontani l'uno dall'altra. Nel giugno del 1971 la coppia ha un violento litigio e Billy rompe il naso a Betty. Ovviamente da allora gli animi si fanno molto più tesi. Billy continua a trattare male Betty e il tutto degenera nel nuovo anno, il 17 gennaio 1972, quando l'uomo minaccia di ucciderla. Lei però gli spara il giorno seguente. Quindi che succede? Betty viene arrestata e accusata di tentato omicidio, ma Billy firma una dichiarazione giurata in cui ammette di aver minacciato di ucciderla per primo. Le accuse di tentato omicidio vengono quindi ritirate, sebbene Betty sia ancora accusata di aggressione aggravata. Incredibilmente lei e Billy decidono di dare un'altra possibilità al loro matrimonio. Si sposano di nuovo subito dopo il processo a cui è sottoposta Betty nel 1972. Ma a novembre del 1973 qualcosa cambia. Betty incontra Ronnie, Thrill Killed, a Dallas, in Texas, così decide di lasciare Billy. Lei e Ronnie si frequentano per più di quattro anni prima di sposarsi il 16 febbraio 1978. Ma come il suo precedente matrimonio, anche questo è segnato dalla violenza. I due sono sposati da meno di un anno quando Betty tenta di investire Ronnie con la sua macchina. L'uomo si rifiuta di sporgere denuncia, ma dopo questo episodio è certamente più diffidente nei confronti di Betty. Betty inizia a lavorare come spogliarellista il 27 agosto 1979. Nello stesso anno viene accusata di atti o sceni in luogo pubblico e trascorre un mese in prigione. A questo punto, al di là di cosa sia successo esattamente, Ronnie ne ha abbastanza di Betty e la coppia divorzia di lì a poco. Dopo qualche settimana, il 3 ottobre 1979, Betty si sposa con Doyle Wayne Barker. Sette settimane più tardi i due si separano, ma continuano ad avere una relazione turbolenta fino al 1981. Quando Doyle scompare improvvisamente. Betty dice a tutti che lei e Doyle avevano litigato, dopodiché lui se n'era andato disgustato. Molti però sono scettici, non riescono a credere pienamente a Betty, poiché Doyle aveva lasciato lì il suo camion e non aveva altri mezzi di trasporto. Betty in risposta a queste perplessità spiega a tutti che aveva chiesto a Doyle di lasciare il camion per venderlo e racimolare un po' di soldi. Otto mesi dopo la scomparsa di Doyle, Betty si risposa. Incontra Jimmy Don Beats in un bar dove fa la cameriera ed è attrattata da lui fin da subito. Jimmy ha la stessa età di Betty, ma è andato da poco in pensione anticipata dal suo lavoro di vigile del fuoco a Dallas. I due escono insieme per sei mesi prima di sposarsi il 19 agosto 1982. Jimmy possiede una casa, ma si trasferisce nella roulotte di Betty dopo il matrimonio. Gli piace particolarmente il fatto che la sua proprietà si trovi nei pressi del lago e gli fornisca un posto dove attraccare la sua barca da pesca. Arriva il 6 agosto 1983. Betty chiama la polizia e riferisce che Jimmy è scomparso. Spiega che lei era a casa e ipotizza che Jimmy fosse uscito di primo mattino per andare a pescare. Ma non era più tornato. Sebbene Betty non sembri affatto turbata, non vi sono evidenti avvisaglie per cui allarmarsi e la polizia accoglie la sua segnalazione come una dichiarazione di scomparsa. Jimmy, dunque, viene inserito nell'elenco delle persone scomparse, ma non si sospetta ci sia dietro un crimine. La sera del 12 agosto 1983 due uomini che stanno pescando a Sedar Lake vedono una barca galleggiare vicino a Redwood Beach Marina. Notano che non c'è nessuno a bordo e sembra che la barca stia per schiantarsi contro alcune delle imbarcazioni ormeggiate. Preoccupati, gli uomini si avvicinano remando per dare un'occhiata. Notano così che il motore della barca si trova sopra il livello dell'acqua e che una delle eliche è stata staccata. Sul fondo della barca trovano una licenza di pesca, un paio di occhiali e alcune pastiglie di nitroglicerina che erano fuoriuscite da un flacone. Non appena leggono il nome dell'intestatario sulla licenza di pesca capiscono che qualcosa non va. Entrambi gli uomini conoscono bene Jimmy ed erano andati a pescare con lui in passato. Era un abile meccanico, dunque avrebbe dovuto essere in grado di pilotare in sicurezza la barca fino a riva, anche con un'elica mancante. Era anche un nuotatore eccezionalmente forte. Inoltre la barca aveva a bordo un salvagente. La presenza delle pastiglie di nitroglicerina tuttavia suggerisce che Jimmy potrebbe aver accusato un problema cardiaco che magari gli aveva reso impossibile nuotare fino alla riva. Immediatamente i due uomini gridano alle persone presenti nel porto turistico di chiamare la polizia. All'alba del mattino successivo dozzine di vigili del fuoco di Dallas seguiti dalla polizia giungono al porto, lì dove era stata trovata la barca di Jimmy. Il legame tra Jimmy e i vigili del fuoco, ossia i suoi ex colleghi, è forte e vogliono assicurarsi di fare tutto il possibile per rintracciare il loro amico, ormai in pensione. Ci sono circa 100 barche nella zona che partecipano a una gara di pesca alla spigola. E quando i concorrenti apprendono cosa sta succedendo, si uniscono alla ricerca. Elicotteri e piccoli aerei offrono assistenza dall'alto. Sul posto arriva anche la Croce Rossa americana che distribuisce panini e bibite fresche a chi collabora nelle ricerche. Le ricerche continuano senza sosta per 13 giorni, poi con riluttanza vengono annullate. In privato, alcuni dei ricercatori si chiedono se Jimmy sia davvero annegato nel lago. L'acqua è abbastanza calda e ormai il cadavere avrebbe dovuto tornare a galla. Anche a seguito dell'annullamento della ricerca da parte delle autorità competenti, gli amici e gli ex colleghi vigili del fuoco di Jimmy continuano a cercarlo per conto proprio. Sperano, quantomeno, di ritrovare il suo corpo. Quando apprendono che Betty vuole tenere un servizio commemorativo dedicato a Jimmy soltanto una settimana dopo l'inizio delle ricerche rimangono scioccati. Parte della comunità si aggrappava alla speranza che Jimmy fosse ancora vivo, ma Betty è pronta a commemorarlo e ad andare avanti. Passeranno due anni prima che la verità su ciò che era successo a Jimmy diventi nota. Un informatore confidenziale, infatti, chiama la polizia per riferire che Jimmy è morto e non a causa di un incidente. Senza far trapelare la segnalazione, il dipartimento dello sceriffo della contea di Henderson inizia a riesaminare il caso. Purtroppo, l'indizio suggerito da quella telefonata non dà alcun riscontro. Per quanto indaghino i detective, non trovano alcuna prova del fatto che Jimmy sia stato assassinato. L'8 giugno 1985, tre giorni prima che le si apra la possibilità di riscuotere le polizie assicurative sulla vita di Jimmy, Betty Lubitz viene arrestata e condotta nella prigione della contea di Henderson. Una volta dietro le sbarre, le forze dell'ordine eseguono i mandati di perquisizione per la sua casa e per la proprietà circostante. Non impiegano molto a scoprire ciò che molti avevano temuto. Jimmy, infatti, non era affatto annegato e il suo corpo non si era mai trovato nel lago. Gli investigatori individuano ben presto il suo cadavere nella proprietà di Betty, sul fondo di un pozzo dei desideri ornamentale ricoperto da muschio e fiori. Jimmy aveva costruito lui stesso il pozzo dei desideri su richiesta di Betty. Non aveva idea che si stesse scavando la fossa da solo. Una volta terminato di scavare nel cortile, gli investigatori si spostano sul retro della proprietà di Betty. Lì sotto un capannone trovano anche i resti del suo quarto marito, Doyle Wayne Barker. Sei Jimmy che Doyle erano stati colpiti a morte dai proiettili di una pistola calibro 38. Doyle era stato colpito tre volte, Jimmy due. Gli investigatori attraverso le indagini stabiliscono che entrambi gli uomini dormivano quando avevano perso la vita per mano di Betty. Dopo che i corpi vengono trovati, due dei figli di Betty si fanno avanti e confessano agli investigatori alcune rivelazioni davvero scioccanti. Betty infatti non aveva agito completamente da sola, aveva confidato in anticipo i suoi piani distruttivi ai figli. Sua figlia Shirley aveva aiutato Betty a seppellire il corpo di Doyle nell'ottobre del 1981. Suo figlio Richard rivela agli investigatori che in una calda serata di agosto la madre gli aveva chiesto di lasciare la proprietà per un po' in quanto aveva intenzione di uccidere Jimmy Don quella notte. Il ragazzo aveva obbedito e si era allontanato per due o tre ore. Quando era tornato Jimmy era ormai morto in effetti. Anche Richard aveva aiutato sua madre a nascondere il corpo di Jimmy questa volta nel pozzo dei desideri. La mattina seguente i due avevano deciso di bleffare fingendo che Jimmy si fosse disperso a seguito di un incidente in barca. Richard infatti si era occupato in prima persona di staccare una delle eliche dal motore della barca. Intanto Betty aveva recuperato la licenza di pesca e le compresse di nitroglicerina col fine di posizionarle sulla barca. I due concordarono di riporre nella barca anche un giubbotto di salvataggio e un paio di occhiali appartenenti a Jimmy. Dopodiché spinsero l'imbarcazione in mezzo al lago. A Betty non restava che comportarsi come una vedova in lutto abbastanza a lungo da riscuotere i benefici finanziari legati alla morte di Jimmy e in effetti per due anni l'aveva fatta franca. L'11 luglio 1985 Betty viene incriminata per l'omicidio di Jimmy. I pubblici ministeri credono che il denaro fosse l'unico movente che avesse spinto Betty a uccidere Jimmy. Avrebbe potuto disporre di diverse polizze assicurative sulla vita dal valore complessivo di quasi 125 mila dollari oltre a riscuotere una pensione mensile di 1200 dollari grazie al lavoro di pompiere di Jimmy. Betty contesta questa accusa sostenendo che non sapeva nemmeno dell'esistenza delle polizze assicurative fino a 18 mesi dopo la scomparsa di Jimmy. Testimonia dicendo che erano stati i genitori di Jimmy a parlarle dell'assicurazione se non l'avessero menzionata lei non l'avrebbe mai saputo. Danny Burris un cappellano dei vigili del fuoco di Dallas racconta però una storia diversa. Sostiene di aver incontrato Betty diverse volte nelle settimane successive alla scomparsa di Jimmy e testimonia che in ognuna di queste occasioni la donna gli porgeva sempre solo una domanda ossia se non trovano Jimmy a che tipo di benefici avrò diritto? Danny Burris inoltre testimonia che Betty la prima volta in cui lui si era avvicinato dopo l'evento drammatico era troppo impegnata a intrattenere gli amici per fermarsi ad ascoltare le sue parole di cordoglio. Il comportamento della donna suggeriva che non fosse affatto turbata dalla scomparsa di Jimmy inizialmente dopo il rinvenimento dei cadaveri da parte della polizia Betty nega qualsiasi coinvolgimento nella morte di entrambi gli uomini afferma di non avere idea di come i loro corpi fossero finiti sepolti nel suo cortile e questa sì che è un'affermazione credibile è vero c'erano due cadaveri nel mio giardino ma mica li avevo nascosti io lì eh in un'udienza per la riduzione della cauzione tenutasi pochi giorni dopo l'incriminazione Betty nega di nuovo di essere a conoscenza di eventuali polizze assicurative sulla vita di Jimmy inoltre insiste sul fatto che non gli aveva sparato né aveva nascosto il suo corpo sebbene avesse diritto la libertà su cauzione per il caso di Doyle Wayne Barker questa le viene negata per il caso di Jimmy Don Beats così Betty rimane in prigione fino al processo dal carcere Betty dice ai giornalisti di essersi sentita sollevata quando è stata arrestata afferma che sebbene non fosse stata lei a uccidere nessuno degli uomini sapeva della loro morte e non aveva mai allertato le forze dell'ordine Betty si dichiara non colpevole ed è convinta che la giuria avrebbe creduto alla sua versione della storia durante il processo incolpa suo figlio Richard per aver ucciso Jimmy e afferma che sua figlia Shirley era stata responsabile della morte di Doyle Wayne Barker che donna terribile Betty insiste sul fatto che non avrebbe mai fatto del male a Jimmy poiché nessuno era mai stato così buono con lei come non era stato lui il suo attuale fidanzato Ray Bone dice ai giurati che credeva che Betty fosse innocente in base a come lo trattava mentre vivevano insieme dato che era gentile con lui ammette tuttavia che Betty non aveva mai voluto che qualcuno tagliasse il prato la giuria comunque non si fa influenzare dalle affermazioni a favore di Betty e si schiera con l'accusa l'11 ottobre 1985 la dichiara colpevole di omicidio calpitale tre giorni dopo viene eseguita un'udienza per stabilire la pena e Betty viene condannata a morte la corte d'appello penale però annula la condanna per omicidio capitale affermando che l'omicidio compiuto allo scopo di ottenere un'assicurazione sulla vita o prestazioni pensionistiche non va considerato come omicidio dietro compenso ai sensi della legge del Texas dunque Betty non può essere colpevole di omicidio capitale nella motivazione della sentenza il tribunale afferma che soltanto i casi di omicidio su commissione possono essere perseguiti come omicidio dietro compenso sembra quindi che Betty potrebbe passarla liscia scontando qualche anno di carcere per poi tornare alla sua vita tuttavia i pubblici ministeri non accettano affatto questa conclusione dunque richiedono una nuova udienza per riesaminare il caso se la sentenza del tribunale sarà confermata si potrebbe creare un importante precedente legale solo un sicario o la persona che lo ha assunto verrebbe accusato di omicidio capitale mentre qualcuno che ha ucciso per ottenere i soldi dell'assicurazione sulla vita potrebbe non essere accusato allo stesso modo si esaminano però le dinamiche di un caso avvenuto nel 1984 dove il tribunale del Texas aveva giustiziato un uomo per aver ucciso suo figlio allo scopo di ottenere i soldi dell'assicurazione così nel 1989 la corte d'appello penale conferma la condanna per omicidio capitale quell'agosto Betty diventa la prima donna in Texas a ricevere una condanna a morte dal 1963 il giudice fissa la data dell'esecuzione per l'8 novembre 1989 informando Betty che sarebbe stata portata in una stanza qualche ora prima dell'alba dove le avrebbero iniettato una o più sostanze letali come previsto dalla legge Betty lascia l'udienza senza fare commenti preannunciando soltanto che da quel momento avrebbe comunicato unicamente tramite lettera dalla sua cella della prigione sua figlia fei riferisce ai giornalisti che sembrava che le cose si stessero muovendo troppo velocemente e questo la faceva star male invece il figlio di Jimmy James dichiara ai giornalisti di essere contento che fosse stata fissata una data di esecuzione sperava che questo avrebbe aiutato suo padre a riposare in pace ancora non immagina che il processo di appello in realtà durerà per l'intero decennio successivo i sostenitori di Betty infatti insistono sul fatto che la donna fosse stata spinta a uccidere dopo anni di abusi domestici nonostante la stessa testimonianza di Betty secondo cui Jimmy la trattava bene Betty ora afferma che se la giuria avesse saputo che era nella condizione di moglie maltrattata non l'avrebbe mai condannata alla pena di morte la donna trova il sostegno del membro del Texas Council on Family Violence un membro Brie Batchnan ritiene che Betty soffrisse della sindrome della donna maltrattata ed il disturbo da stress post-traumatico Betty non aveva mai provato a usare questa argomentazione per difendersi quando era sotto processo ma in colpa il suo avvocato per non averla presa in considerazione non c'è dubbio che Betty sia sopravvissuta a un'infanzia orribile e alcune delle accuse relative all'abuso da lei subito sono probabilmente vere ma la bambina fragile di un tempo era poi diventata una donna che non aveva paura di difendersi Betty afferma di aver subito abusi durante tutti i suoi matrimoni anche se non ci sono prove di quanto sostiene semmai in diverse occasioni sembrava essere lei l'aggressore aveva sparato al suo secondo marito ed era fuggita dall'accusa di tentato omicidio soltanto perché l'uomo si era rifiutato di denunciarla aveva cercato di investire il suo terzo marito con la propria automobile ma ancora una volta era sfuggita al carcere perché lui non aveva asporto denuncia era stata sposata con un quarto marito soltanto per sette settimane prima di ucciderlo e il suo quinto marito non se l'era cavata affatto meglio come detto non ci sono indizi o prove che indicano che uno di questi uomini fosse stato fisicamente violento con Betty questo è probabilmente il motivo per cui tutti i tribunali confermano la condanna a morte della donna e che spinge il governatore George Bush a rifiutare di concederle la grazia l'affermazione di Betty di aver ucciso per legittima difesa viene contestata anche dalla testimonianza di suo figlio Richard il quale dice chiaramente alla corte che la madre gli aveva chiesto di allontanarsi da casa per alcune ore proprio perché lei aveva intenzione di uccidere Jimmy Betty a sua volta cerca di dare la colpa a suo figlio dicendo che era stato lui a ucciderlo ripeto che donna tremenda mentre Faye una delle figlie di Betty crede che la vita di sua madre debba essere risparmiata Shirley un'altra figlia aveva testimoniato contro sua madre al processo aveva riferito alla giuria che sua madre le aveva anticipato i suoi piani per uccidere Jimmy e farlo sembrare un incidente aveva ammesso anche di aver aiutato sua madre a seppellire il corpo di Doyle Barker e dichiarato che Betty le aveva confidato di aver ucciso Doyle perché non voleva sopportare altri obusi da parte sua ma non poteva divorziare siccome la roulotte in cui vivevano era intestata a lui Shirley raccontò che Betty aveva atteso che Doyle si addormentasse prima di afferrare una pistola e sparare più volte alla testa dell'uomo questa chiaramente non può essere definita come un'autodifesa un altro problema con l'ultimo tentativo di Betty di usare come supporto per la propria difesa la sindrome della donna maltrattata è il fatto che lei non aveva mai confessato di aver ucciso suo marito ribadiva che non aveva idea di cosa fosse successo a Jimmy e aveva giurato di non sapere che fosse sepolto nel pozzo dei desideri della sua proprietà inoltre nel periodo in cui Betty va a processo la sindrome della donna maltrattata non si configura ancora come una condizione di difesa ampiamente riconosciuta questa non si affermerà fino a quasi un decennio dopo la condanna di Betty in seguito infatti ad alcune donne è stata ridotta la pena o addirittura è stata commutata in un secondo momento nei casi in cui tale sindrome è stata riscontrata non è chiaro se Betty qualora avesse ammesso di essere stata lei a premere il grilletto avrebbe potuto ricevere lo stesso trattamento insistendo sulla sua estraneità all'omicidio Betty si è preclusa la possibilità di avvalersi di qualsiasi tipo di difesa attenuante due giorni prima della data della sua esecuzione il Texas Board of Paroles and Pardons rifiuta di concedere una sospensione o di commutare la sua pena il presidente del consiglio dichiara Lou Bates non aveva mai confessato o mostrato rimorso per le sue azioni e non ha mostrato prove sufficienti che la violenza domestica l'abbia indotta a commettere il crimine anche il governatore Bush che era nel pieno della sua campagna per la presidenza respinge le affermazioni di Betty e rifiuta per la seconda volta di concedere una sospensione dell'esecuzione nei giorni che hanno preceduto l'esecuzione di Betty Bush viene sommerso da chiamate e lettere scritte da 2108 persone che si oppongono all'esecuzione della donna mentre ne riceve soltanto 57 da parte di persone convinte che debba essere giustiziata Bush anche in questo caso non cede all'opinione popolare ritiene pubblicamente che Betty fosse davvero colpevole e ha fiducia che il sistema giudiziario avesse esaminato a fondo il suo caso prima di confermare la condanna morte il 24 febbraio del 2000 Betty viene giustiziata tramite l'iniezione letale rifiuta un ultimo pasto e sostiene di non avere niente da dire prima di morire non stabilisce un contatto visivo con le persone che sono intervenute per assistere alla sua esecuzione anche se sorride ai membri della sua famiglia che si collocano in disparte al momento dell'esecuzione Betty ha sei figli in vita nove nipoti chi è sei pronipoti dice che spera che la ricorda come una amorevole matriarca di famiglia afferma anche di essere estremamente dispiaciuta per il dolore sofferto dai familiari delle sue vittime anche se ribadisce che non era lei la responsabile non aveva causato lei tutto il loro dolore James Donbeats che assiste all'esecuzione dell'assassina di suo padre ammette di non essere un grande sostenitore della pena di morte e dice che nulla avrebbe riportato in vita suo padre tuttavia ritiene che la giustizia abbia fatto il suo corso per lui se Betty aveva davvero subito degli abusi cosa di cui dubita doveva unicamente allontanarsi non sparare a suo padre nel sonno santo cielo James peraltro sottolinea un fatto importante perché dice che mentre Betty continua a fare notizie ormai da anni suo padre la vittima era stato quasi dimenticato riguardo alla modalità di esecuzione della condanna Betty aveva paura all'idea di essere legata alla barella ma riesce a rimanere composta viene dichiarata morta alle 18 e 18 avrebbe compiuto 63 anni due settimane dopo e questo la rende la detenuta più anziana giustiziata dallo stato del Texas dal 1982 detto questo ho finito di parlare in questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso lo conoscevate già sapevate già di questa storia fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti come al solito ci becchiamo nei commenti io vi leggo sempre tutti sono molto curiosa di sapere la vostra opinione io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.